Ogni giorno entriamo in questo gioco, facciamo tutto quello che ci viene in mente, ammazziamo, rubiamo auto, vogliamo, tutto quello che ci viene in mente Però non rimaniamo mai a guardare i dettagli del gioco, mai ad osservare i comportamenti degli abitanti, dei civili Bello il giacone, vero? Di questa città Sì, sì In realtà sta guardando a me la signorina, ha detto che sono vestito molto bene Perché si è un po' spaventata, sì Guarda che è figo Ha deciso di andarsene Ha deciso di andarsene perché era un po' preoccupata Quindi quest'oggi, diciamo che metteremo un po' alla prova i civili della città E allo stesso tempo li osserveremo perché vogliamo vedere un po' come si comportano tutti i giorni E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano e sto oggi con GTA V E siamo qui con un nuovissimo episodio di GTA un po' particolare Perché oggi testeremo e metteremo alla prova i civili Li osserveremo, vedremo un po' che combinano E da cosa iniziamo Stef? Vai Allora, 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 allora Prima di tutto, beh, io direi, osserviamo un pochettino dei civili normali che camminano Allora, inseguiamo questa perché mi sembra una tipo un po' stramba Io appena... ma cosa stai facendo? Non lo so Cioè, ma neanche iniziato a star nutito Tu non hai capito? Stava ridendo da sola prima Ridendo? Secondo me stava ridendo Io pensavo che avesse star nutito perché aveva la mano vicina alla faccia Allora, guardandola che un po' stramba è camminata Un po' stramba è camminata Ha fatto la dab L'hai vista? Ma davvero? No, la dama era immobile No, no, ha fatto la dab Non sei sicuro? Sì, sì, sono sicurissimo Io ti ho detto che è stramba, eh Continuiamo, continuiamo Questa rideva da sola, te lo dico Stef Quindi, comunque, li osserveremo Ma che fai? Ferre non... Dai, ha starnutito Per forza Ma questa c'ha... Sì, c'ha uno starnuto ogni tre secondi, Statizia È raffreddata Ma guarda ancora, ma che... È povera, dai, è raffreddata Ma portatelo un pazzolettino, poverina No, adesso c'ha gli spasmi Ferre, si è buggata Secondo me il gioco non contempla Guardala Guardala Il gioco non contempla Che tu osservi la stessa persona per un minuto Ed è andata in pappa Non sa più che fare Stai facendo un ballo da robot Doveva sparire in questo momento Invece è ancora qui Vabbè, ascolta, Stef Iniziamo da qualcuno di più normale Perché vorrei vedere reazioni un po' più sane Non questi balli Allora, lasciamo la signorina al robot La stendiamo Ferre, non ce l'ha bisogno, però, eh Sì, dai, tanto era malata, quindi Ma che malata, ma dai Magari il raffreddore Era una malattia contagiosa Avrebbe fatto tipo un'epidemia In tutta la città Certo E quindi era meglio farla fuori Volevo dire che comunque Li osserveremo E li metteremo anche alla prova Cosa ne so Vediamo come reagiscono Quando li spingi Quando rimani ad osservarli Insomma, vedremo un po' di cose Però questo è stato spettacolo Anche solo osservandola Quindi ancora meglio Io volevo osservare Delle persone che chiacchierano tra loro E ce n'erano due qua Però tu hai deciso di dare un pugno A una poverina E sono scappati via Quindi adesso ci tocca cercare qualcun altro Cercheremo altri Andiamo, forza Non ti avvicinerei troppo Perché altrimenti si spaventano Aspetta, però voglio vedere anche io questa vetrina Perché tipo questa pianta è molto bella Vero? Sì, ma a parte che è un disegno Sì Perché non c'è la vetrina Loro però sono interessati Allora, vabbè Sembrano una copietta Normalissima Ma non è vero Secondo me non sono una coppia Dici, cioè sono due persone Una a fianco all'altra Normali Sì, secondo me sì Ok, comunque Lui si sta fumando la sua sigaretta Lei guarda qua Lei guarda Sì, è un po' preoccupata Guardate la faccia È un po' preoccupata Sei strana, amica mia A me sembra Guarda dalla mia prospettiva Che mi stia fissando E guardando male, Steph È successo una cosa brutta Se qualcuno mi fissa E mi guarda male, Steph No, no, Ferre Ti posso garantire? No, mi sta fissando No, no, Ferre Io mi metto in prima persona E vediamo se Stiamo incrociando lo sguardo, Steph No, guarda Sta incrociando più il mio Che il tuo No, 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 lo stiamo incrociando Lei sta chiaramente guardando Qua Per farglielo capire Davvero volete restare sei ore A osservare una vetrina? Io non so se fanno altro Cioè, che facciamo? Dici che restano per sempre così Però aspetta, guarda Io mi sono messa qua E lei ha smesso di fissare da quella parte Aspetta, adesso guarda Facciamo la prova Se mi metto qua E mi fissa da questa parte La pesto Ok Vediamo No È triste, è diventata triste Adesso è triste È triste L'hai criticata un po' troppo Si sente, capito Come se adesso non potesse Nenche più osservare La città Normalmente E io direi di lasciarli qua Guarda È inquietante, Steph Fede Se ti metti a fianco Riprendo a fissarti Ma ti sembra normale questa qui Questo poi c'ha la sigaretta Di quanto? Di tre metri e mezzo Perché da due ore Che la sta fumando E ancora non l'ha finita Andiamo da qualcun altro Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Perché hanno paura di noi, Fede? Perché hanno paura? Che abbiamo fatto? Ma non stavamo facendo Chiaramente sono spaventati Ma scusa, se corriamo È perché stiamo correndo Fede, non Ti prego non fare Aspetta Non lo so, Steph Iniziamo a metterli Un pochettino alla prova Allora abbiamo Ad esempio questa signorina Se io mi metto in mezzo Al suo tragitto Mi schiva Ma Aspetta Ma Aspetta Scusa, amico No, no, no Non cerco Ma chi ce l'ho? Non mi interessa Lasciami in pace Dai, dai Scusa Ma dai, dovevo testare Ma perché sei presa con te, Steph? Non lo so Però è arrivato anche l'amico Guarda Ah, è tornato inietro Come ha fatto a stendermi Con un pugno? Ma che è sta storia? Ma perché mi stendono tutti a me? Fedeci Mamma mia Quanto l'hai fatto volare Vabbè Allora Qua finisci tu tutto Io sinceramente Stavo facendo una roba Ben più importante E ma qua vogliono tutti litigare Comunque No, amico, amico, amico Fede, questo mi sta inseguendo Perché vuole litigare Se io adesso mi fermo Dopo che lui si è arrabbiato un po' E mi stava inseguendo Mi ignora O mi ferma e mi spinge? No, forse si è calmato Si è calmato Si è calmato L'altro è proprio passato Della serie Hanno la memoria da tre secondi Se tu li ignori per tre secondi Puoi averli anche sputati addosso Che se lo dimenticano E tornano tranquilli Va bene Mi sembra equo Vediamo invece Fede Come reagiscono Un pochettino Le persone che lavorano Dentro i negozi Nel senso Allora Lui resta ovviamente Ad osservarci Perché deve capire Che cosa vogliamo Se vogliamo tagliarci i capelli O meno Sì ma secondo me Con questi non puoi farci nulla No, no, no Vedi? Se io mi sposto Lui si gira Ok Però guarda un po' anche me Guarda un po' te E se io mi nascondo Nascondimocci tutti e due Non sono proprio ben nascosto Facciamo lì uno scherzetto Eh ma non c'è Favano ad entrare qui Sta fuori lì No, peccato Guardalo dallo specchio C'è il riflesso Ti sto osservando Ok E possiamo fare un po' di casino Farlo arrabbiare in qualche modo No, non possiamo fare azioni Dentro Eh però se ad esempio Lui corro addosso tutto il tempo Lui si arrabbia Andiamo dalla parte della sua cassa Questa è la sua cassa Magari si nervosisce Se stiamo dove hai i soldi Mmm Neanche Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere No Possiamo stare qua Mi scusi guardi Prendo un attimo 5 euro Va bene In prestito Ok Non ne frega nulla Ho un batteciglio Che combini Steph Che stai combinando Allora Guardi a che controlla Perché ovviamente Tu devi stare attento Che non entri nessuno E scommetto che ti sta sparando Eccetera eccetera Visto che stai rovinando Un campo da golf Con un'auto No Guardalo Lui è tranquillo Come se non ci fosse Nessun problema Come se qua È tutto normale C'è soltanto un pazzo Scatenato Con un'auto Che distrugge Tutto il campo da golf Cosa vuoi che sia Tranquillissimo Se ne sta lì Fa il suo lavoro Fa il suo lavoro E niente Non reagisce in nessun modo Però io so già Che se invece faccio Aspetta 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 Sta succedendo qualcosa Perché comunque Noi non abbiamo fatto nulla Per provocarlo E ha iniziato a muoversi Ok Si è appena arrabbiato un po' E torna indietro Della serie Amico Con me Tutto a posto Se vuoi restare qua Sì Ti faccio una foto Per ricordarti per sempre Allora Fammi vedere un pochettino Dai ti faccio una bella foto Che filtro vuoi per Instagram Dimmi un po' Quale preferisci Guardi faccio anche un bello zoom Sulla faccia Cis Perfetto Perfetto Sì sì Ce la salviamo nella galleria Grazie Come lo chiamiamo? Fernando Vai Perfetto Mentre facevo la foto a Fernando Mi sono ispirato Fede Come reagiscono i civili? Se li rimani ad osservare Con il tuo Telefono Hai visto? Si sono girati subito Si sono girati Sono timidi Scusa Magari è una coincidenza Dai magari è una coincidenza Quindi adesso Ma è l'altra parte Li supero Entrambi Vado molto distante Così non li turbo Invece di Fede Che corre in mezzo Lo sai che qui si spaventano Fede Lo sai Sono come i piccioni Si spaventano Appena corri vicino Allora E facciamo così Questo è Gusvaldo Che è tranquillo Cammina per i fatti suoi Non gliene frega nulla Che qualcuno L'osserva con un telefono E questo è Caio Anche lui Sembra abbastanza tranquillo Sembra che Osservarli con il telefono Per loro È uguale Ad osservarli normalmente Però secondo me La prima volta Si sono girati Perché ti hanno visto Col telefono Io riproverei Con qualcun altro Ok guarda Quello che sta arrivando Così lo posso Osservare Per tantissimo tempo Perché se è stata una coincidenza Fa troppo ridere Anche una foto Perché così sente il rumore Sì esatto Magari si allarma Guardalo 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 Lui sta tornando a casa A cucinare Quindi è pensieroso Sta pensando a cosa cucino oggi Sì forse un po' di pasta asciutta Cheese Eh frega nulla Nulla Niente Peccato Però ad esempio Io vado incontro a questo Ho un'ascia E per lui è come se fosse normale Una persona che Nella vita cammina con un'ascia Però faccio un po' lo strano Stai cercando rogne Se fai lo strano Però si spaventa Vabbè ma quello è normale Cioè ho un'ascia Non è una buona idea Non frega niente Mi sfidi Mi stai guardando anche tutto il tempo male Mi vuoi davvero sfidare No no dimmi 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 Sei sicuro? Ah ok bravo Ha fatto la cosa migliore E la signorina ha starnutito Com'è la prima Guardala 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 Eh vabbè Cioè ma questi hanno programmato Delle persone che starnutiscono tutto il tempo Che ti devo dire Se sei una signorina Se sei un maschio Non starnutisci Esatto Perché sei un maschio Perché il mondo è diviso Da chi starnutisce A chi non starnutisce Non l'avevo mai notata Non mi sono mai fermata Troppo a guardarli Secondo me sono simpatici Torturiamo un poveretto Che sta lavorando Allora buongiorno Dato che qui si può interagire A differenza delle barbiere Vediamo un pochettino Di giocare con lui Ad esempio Adesso lui ci sta osservando E è un po' preoccupato Ovviamente ci osserva Se noi andiamo nel suo magazzino Vieni Fere Teoricamente noi possiamo rubare Tutte le merce Ok Mi è sembrato di sentirlo urlare Quindi sono un attimino ascoltando Allora aspetta Io lo guardo da qua Cioè se lui si avvicina Io lo vedo Nel caso in cui è Eh dimmi Sono davanti alla sua cassaforte Davvero? Sì se entri nell'altra porta C'è la cassaforte Ah c'è l'altra porta Sì Guarda La vedi la cassaforte Questa è bella Ma lì dentro Secondo me ci sono Due asciugamani Ma dai no Avrà dei guadagni C'ha cent'anni Questa cassaforte Vieni qua Vabbè vabbè Dimmi Cioè rimane tranquillo Guardi che noi stiamo Per rubare tutti i suoi soldi Si fida Si fida Nel senso Non prega nulla Ci guarda un po' strano Però si fida abbastanza Non è che se vengo qua Per il disturbo Ti acquisto una coca cola Dai anche io Perché mi dispiace Comunque Eh sì anche a me Abbiamo importunato abbastanza Abbiamo cercato di rubargli i soldi Quindi Fare fammi vedere una cosa Dimmi Compra qualcosa Ok Voglio vedere se lui mette la merce Nel bancone Vai Stai comprando? Sì Adesso me la dovrò Sì La coca cola Ho comprato proprio la coca cola Sì sì La prende e la mette Proviamo Bravo Sei proprio un ragazzo Un pacchetto di sigarette Un pacchetto di sigarette La prende e la mette Ti dà il pacchetto di sigarette Bravo ragazzo Bravo almeno tu fai qualcosa In questo gioco Sono dei manichini Almeno tu qualcosa Ce la regali come emozione Ok guarda Grazie a tutto questo Non ti ammazziamo Perché c'è La tentazione è gigante Sì ovviamente Viene voglia Però ti lasciamo lì Per una volta potrei dire Di essere sopravvissuto Quando sono entrati dei player Secondo me è la prima volta In tutta la tua vita Amico mio Ok secondo me Arrivederci Spero che se riesci Lasciateci un like E se la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare I dati iscrivervi Per non perdervi Grazie a tutti